Salve a tutti, benvenuti in una puntata del sabato di Fortnite, ovvero il Saturday Night. Ora, vedo... Allora, c'è stato un aggiornamento da poco, un paio di giorni fa, di petta giorno in cui sto registrando, ovviamente, e dice che c'è una nuova modalità disponibile. Esplosivi ad alto potenziale, armi esplosive ovunque. Proprio ignorantissima questa. Eh, vabbè, dai! Proviamo questa modalità di esplosivi ad alto potenziale. Vediamo un po'. Vuol dire che si va di lanciamissili un po' ovunque? Possibile. Vabbè, vedremo. Proviamo. Esplosivi ad alto potenziale, comunque 2.0, vuol dire che c'è stato un 1.0. Eh, boh, vediamo. Insomma, io... E come sapete, io sono scarso. In questo gioco sono scarso, anche parecchio. Come sapete, insomma, io ti gioco così per sopravvivere il più possibile in un punto a vincere. se cercate un video di pro gamer, di gente che vi insegna a giocare, eccetera... Ve lo dico, fin da adesso non... non è qui, non... non aspetta qua... Ah, eh, proprio... Danciacranate, a mai finire, cose... va bene. Ok, e allora vediamo un po' la mappa com'è... com'è? Dove vanno questi? Qualcuno va a Putrido Pantano? Mi sa di sì? Sì, allora io devo cercarmi un'altra zona. Eeeh... Eh, porca miseria... Eeeh, boh, là... Ma io da un'altra parte... Sempre nella speranza di non beccare... Posso andare in una zona... Tempeste è arrivata a tre... Io... Io voglio andare a un posto isolato... Posso che non... Ci viene nessuno... C'è? Mi lasciate un attimino un pace... Io... Sì... Adesso appunto vado qua... Posso? Ok... Grata a impulsi... Bene... Ottimo... Pente non ho armi... Grata impulsi... Qua ho del... Bene... No, è ottimo... Ottimo... Come no... Ok... Io vado di là, eh... Vado all'altra parte... C'è già la zona... No... Io non ci voglio... Ups... Sono in piena... Safe... Proprio piena safe... E... Con delle granate... E... 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 Basta... E non ho altro... Presto delle mis... Munizioni... Per dei lanciamissili... Ma... Nient'altro... Mentre... Un po' di gente già è morta così... E apro... Trovo del metallo e... E anche qua... Nient'altro... Chiudi... Tomato Town... Magari c'è qualcosa... C'è... Qual... Cosa? Vi chiedo scusa... Se sentite... Rumori di... Mi ha fatto esplodere... Ok... Io vado, eh... Ciao... Ciao, eh... Ciao... Io vado da un'altra parte... Io vado da un'altra parte... Io... Cosa? Per entrare in questa casa... Io sto sempre sperando di trovare... Delle armi... No... Trovo granate di ogni tipo... Ma armi... Manco... Armi da lancio... Ma cose che si sparano... Niente... Bene... E... Ehm... Io... Mi sono chiuso... Io non volevo... Chiudermi dentro... Io... La vedo... La vedo... La vedo nirissima... Ma quanto la vedo nera... La vedo nirissima proprio... No... Non mi viene neanche... Io direi... Boh... Vieni di... Girar lontano... Dal Tomato Town... Vieni di trovare... Di girar lontano dalla Tomato Town... E sperare... Di trovare qualcosa in giro... Perché... Questa situazione... Comincia a essere... Davvero... Problematica... Io... Continuo a trovare... Munizioni... Di lanciamissili... Bano no al lanciamissili... Bene... Le tiro a mano... Posso tirar queste munizioni... Ottimo... Munizioni... Qualcuno ha sganciato un missile... Qualcuno ha sganciato un missile... Io... Qualcosa... C'è un cazzo di nulla... Via... Via... Ciao... Io sono morto... E' ufficiale che io sono morto... Vabbè... Ehm... Ho fatto quello che potevo... Ehm... Vabbè... Ehm... Ho fatto quello che potevo... Ehm... Vabbè... Ehm... Per l'appunto a questa modalità... Nella speranza che... Un... Giorno possa... Trovare... Un... Un'arma... Ho capito che... E' proprio modalità cazzarona... Lanciamissili... Lanciamissili... Violento... Ecco... L'ho capito... Ehm... Vabbè... Proviamola... Insomma... Ehm... Sarà davvero complicata... Non... Non vedo nulla di buono... In tutto ciò... Lo dico... Non vedo nulla di buono... In... In queste partite... Ehm... Ok... Mente... Gente... Fa robe... Ehm... Io... Non so cosa fare... Corro... Lanciamissili... Ehm... Waa... Capodanno... Non è... Questo... Ah... Io... Potrei andare al pantano... Se non ci pensano altri... Ci stanno pensando altri... Sicuro... Sicuro... Ehm... Io devo andare... Boh... Proviamo... Pudrito pantano... Sperando... Non ci tradisca... Sperando... Di essere l'unico... Aver avuto sta idea... Un certo... Happens... Ha sbagliato l'atterraggio... Ok... C'è la sicurezza... Oh... Ha fatto... Boh... C'è la sicurezza che non arriva l'ultimo... E' già... Già... E' una... E' una... Una conquista... E' quel cranchio lì? Cosa? Quel cranchio lì? Cosa è questo? Piattaforma... Lancia uova! Quindi siamo a... Quindi... Per Fortnite... Siamo ancora a Pasqua... Ok... Abbiamo capito... E noi siamo in safe... Tra l'altro... Al momento... Sto vedendo... Se per puro caso... Munizioni... Lancia razzi... E un altro... Lancia ruovi... Me li prendo tutti... Perché tanto... Preferisco... Prendere... Piuttosto che lasciarli a qualcuno... Che poi... Prima o poi... Potrebbe usarli contro di me... Quindi... Io direi di andare verso il centro... Verso il centro... Perché io ho sempre l'esperienza di trovare il posto buono... Dove andare a... Stare... No... Non era questo quello che volevo... Aspetta che qua c'è una cosa... Finito... Oddio... Che quello l'ho visto... Non so se lui si è accorto di me... Ma io l'ho visto... Oh... Lancia razzi... Era nata... E io direi... Allora vado di... Lancia... Lancia razzi... Ne ho 17 di colpi... Aspetta... Vabbè... E' andato migliore a lui... Trentasettesimo... Bene... 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 Il... 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 La... Il disastro! Bene, io direi continuare a fare qualche altra partita, prima o poi riuscirò a resistere un po' di più. Cos'è? Nuove aggiornamenti, adesso me lo dici, dopo due partite, scambio a materiali di ricambio con equipaggiamento supplementare, concorso social bookie down, esplosiva alto potenziale, è tutto molto bello, potevi dirmelo un po' prima, ma va bene. Comunque, riproviamo con gli esplosivi alto potenziale, disastro, sarà un disastro e lo dico, sarà veramente, tutto ciò sarà veramente un disastro. Comunque, vediamo, ok, vediamo come andrà, non la vedo bene per niente, ma va bene. Tu prendi cose, prendi tutto, questi cavoli, io prendo mattoni, non ci faccio niente, corro verso il vuoto, verso l'infinito. Bene, adesso la mappa come la prendiamo? Così, bene, porca di quel, va bene. Io direi di aspettare, 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 fino a piacce snob o quella collinetta là in alto sperando di trovarci qualcosa. Un punto alto non sarebbe male. Io potrei, ora, voglio il punto alto, voglio il punto alto, voglio il punto alto. La terpesse arrivo fra cinquanta minuto. Là c'è una casetta, piccolina in Canada. Con tanti, con tanti lanciarazzi di esplosioni di lì là. E no, il Fortnite che passava un po' di anni, che fa mai che bella la casetta in Canada. Via. Qua, aspetta, cerco. Munizioni. No, quale, che cosa stai facendo? Esplosivi, dai? Comandati? Macciate il materiale per fare questo? No. Ok. Oh, facciamo materiali, materiali. Facciamo una cosa. Olè. Bella lì. Trovato. Un cazzo di nulla ho trovato. Ma va bene lo stesso. Ho trovato lo spara uova. Ok. Ok. Così. Giusto per non lasciare traccia e riprendermi un po' di materiali. La safe, siamo abbastanza in piena safe. Direi che possiamo aspettare qui. Con molta calma. Ha letteralmente il fuoco nelle vene. Bene. Mi mettiamo. No. Più del 50% con quello non posso farlo. Va bene. C'è nient'altro? No. Io. Mi sto qui. Io mi sto. Io resto qua. Nell'idealtà. Col cazzo che vado là fuori. Piuttosto sparo da qua. Io mi sto qui. C'è gente che sbaglia l'atterraggio. Mi dispiace. Io mi sto qua. Adesso la safe comincerà a stringersi. Ok. Aspetta. Posso fare una cosa? Aspetta, una cosa. Però devo capire bene prima. Cos'è questo? Trapp- Farlo con portere- Ah, trappola. È una trappola. È una trappola. Allora, io mi piace questo qua. Ah. Ah, mi dà il più vita. E minchia, me lo potevo- Va bene. Pensavo fosse una cosa che facesse danno. Invece no, cura. È curativo. Allora me lo tengo qua. Andiamo un po'. Che cos'è? Va bene. Non volevo fare ciò. Direi che la copertura mi è saltata. E... Ricarico. E ricarico. Direi che mi è saltata la copertura. Perché sono scemo? Ho detto, vabbè. Con... Niente, non posso... Non posso più utilizzarlo. Ho sprecato un falò. Bene. Io mi sto qui. Io non volevo fare sto portello. E quindi... E quindi abbiamo un problema. Questo posto non è più utilizzabile. Bene. E... Bene. Bene. Io... Per modo di dire, tra l'altro. Bene. Non ha senso. Io ho smontato una casa solo perché ho sbagliato a premere un bottone. È ottimo. Io direi... A questo punto... La speranza... La speranza... E porca... Ok. E... No. Prendiamoci di rimuovere il materiale. Ce lo siamo ripresi, giusto? Un po' di materiale. Legno. Legno. Faccio legno. Ma... Ma... Che cosa... Ecco... Ti era un attimo baccato. Va bene. Ora... Considerare la situazione. Là... C'è uno che si sta facendo un nido. Praticamente. Io sono in questa casa... Sgangherata e sderupata. E mi ci sto, eh. Mi ci sto comodo, comodo. Io non... Finché non sono costretto io non mi muovo. Finché io non sono costretto non mi muovo. Ma manco per sbaglio. Facendo così sono i top 20. Si tratta di sopravvivenza qua, ragazzi. Qua l'area si sta riducendo. Siamo rimasti in 15. E mi fermo qua col cazzo che vado... Da qualche altra parte a farmi ammazzare. Io mi sto qua. Mi guardo un po' in giro. Anzi... Io ho entro in tempo. Io mi libero anche un po' la visuale. Ecco. Ecco. Io romano... Fai romano ha fatto... Anzi, facciamo una cosa, sì. Questi... Facciamo una cosa, io non so. Facciamo una cosa. Ok. Mi sto qua. Anzi... Mi sto qui. Sì, sì, sì. Mi sto qui. Mentre la... La safe si stringe... Un cacchio. Ok. Capito. Posso riprenderla? No. Direi che dobbiamo andare. Direi che dobbiamo andare. Scivola. Olè. E mo' dove vado? È ovvio che non mi conviene andare lì dentro, che ci sarà sicuramente qualcuno appostato da qualche parte. Mi serve... Un posto isolato. No. Qua intanto mi serve scivolare per non farmi danno. Ok. Poi serve un posto isolato. Sto per entrare in safe, il che è un bene. Intanto sono in top 10. Non ci diciamo niente. Io vado di qua. Io vado di qua. Non dico niente. Dico niente. Sono nella merda. Ma tanto, però. Posso andare di qua, no? Devo andare di là. Merda, 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 merda. C'è. Sono. Sto andando proprio. Via, 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 via. Via. Corri, 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 corri. Corri. Ok. Via. 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 Anzi. Facciamo una cosa Ok No merda 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 Sono in posto spagliato, sono in posto spagliato porgotta Ok calma Calma Minchia Cos'è questo? Minchia Va che cazzo Vabbè Vabbè Sono arrivato sesto Sono arrivato sesto, ce l'ho fatta arrivare sesto Vabbè Vabbè Direi che va bene così Possiamo chiudere qua questa partita Ho fatto una top 10 Di fatto senza sparare un colpo E fortnite è bello anche per questo Vabbè Detto questo ho fatta l'ennesima figura di merda su fortnite Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima Ciao a tutti ragazzi